Lorelay io non ti cucinerei mai ma non sono neanche pronto per questo motivo a strumentalizzare il paese d'origine o il colore della pelle di un uomo di fronte a una barbaria peraltro magari finanziata da politici per campagna elettorale chi lo sa questo non si può mai sapere tra l'altro aggiungerei che il dibattito filosofico che si può aprire è immenso e difatti dovremmo concettualizzare contestualizzare con pura umiltà perché si arriva sento persone che arrivano a giustamente non lo so parliamone il maiale intelligente come il cane i nostri nonni hanno mangiato gatti dopo durante la seconda guerra mondiale non siamo in un periodo di guerra ma la guerra non si fa armi per chi non ha il pane si è sempre in guerra oppure oppure è corretto non insegnare i nostri figli all'elementare che non si prende per il culo un musulmano un ragazzo musulmano che non mangia carne di meiale perché era un'usanza solita alle mense dire che cazzo fai non mangi views quindi si sposta i concetti la filosofia del dibattito ha sempre mille sfaccettature io mi chiedo perché voi siete così accaniti e fan delle certezze siete così sicuri di avere certezze chi cazzo vi ha dato la garanzia di avere una certezza nel momento in cui criticate puntate il dito io non vi capisco ragazzi sembra che voi dobbiate gonfiare il vostro ego stare meglio facendo stare peggio altre persone ora io vorrei invitare i miei coetanei semplicemente all'uso a un uso corretto della dignità perché non è più bello indignarsi percazzate che noi uomini dei quartieri della classe media della piccola borghesia del basso proletariato siamo abituati stronzate c'è un ragazzo che cucina un gatto in stazione e allora fatelo smettere indigniamoci per la p2 la trattativa stato mafia l'assenza di un premier eletto dal popolo indigniamoci cazzo per cose gravi ma dove stiamo con la testa c'è noi dove stiamo con la testa in italia è ripartita la serie a non la scuola ma di che cazzo state parlando voi state strumentalizzando veramente l'immigrazione in questo modo ci dilunghiamo solo per specificare una cosa perché davvero non capisco come i vostri giuditori non ve l'abbiano già specificata questo questo piccolo concetto se vado nel loro paese mi tagliano la mano cazzo cazzo anche io ragionavo così quando ero in prima media cazzo non ci si abbassa mentalmente ai livelli di chi è moralmente più in basso di noi per trovare conforto che cazzo vuol dire dal mio avvocato la sua segretaria è una ragazza classicista over 30 molto bella e bionda mi stava dando dei consigli su per per fare un riassunto sui miei gap culturali riguardante la filosofia la storia i grandi classici letterali italiani bene gli ho mollato una battuta a un certo punto dicendo però non potrei avere una prof così bella vedete questa un'altra cazzata che io a 26 anni ho imparato perché è una ragazza intelligente odia odia essere giudicata per la sua bellezza perché le ragazze belle intelligenti fanno fatica nel mondo del lavoro più di noi maschi quindi io con un semplice complimento ho sminuito la posizione l'etica professionale di una persona a 26 anni mi ricredo nelle mie stupide battutine seppur lei non si affesa e abbia capito che che io volevo solamente dire guarda mi distrarrei se mi insegnassi tu ma ma voi volete capire quanto è difficile avere certezza nel giudizio ma dove cazzo andate con le vostre garanzie sì mi devo sbarbare lavare i capelli andare anche a fare questa parte qua in mezzo che non faccio da tempo teatralizzo mi alleno sono fan dei doppiatori degli attori il mio in questo modo non è una supercazzola con termini aulici che poi non vuol dire un cazzo ecco io per esempio vi consiglio tutti voi under 18 di guardarvi le interviste di pasolini di andrea paolo villaggio e benigni